Edmond, Paola, Amir, Simone, Fang Fang, vieni anche tu, comincia la lezione forte, comincia la lezione forte. Ciao Lisa, ciao Simone, lo zaino, il libro, il quaderno, no Lisa, l'astuccio, la colla, ecco la matita, la gomma, no Lisa, non va bene. Ecco, le forbici e la penna. Sì, ora va bene.